Ciao a tutti, trasforma i difetti in armi di seduzione. Noi abbiamo la possibilità di trasformare i nostri difetti, quelli che reputiamo difetti, in armi di seduzione. In che modo? Beh, in che modo evidenziandoli e utilizzando, diciamo, consapevolmente delle maschere, fondamentalmente, delle maschere che vanno a estremizzare la situazione opposta. Ad esempio, faccio un esempio, se una persona è senza capelli, diciamo così, cioè ha pochi capelli, perde i capelli, faccio l'esempio mio, che quindi è un qualcosa che, diciamo, si può vedere. Io lo esalto la cosa, cioè non tengo i capelli, i capelli qua crescerebbero, lateralmente crescerebbero, dietro crescerebbero, però io vado a estremizzare, quindi li tolgo tutti. estremizzo, non cerco di salvare e fare il riportino, aggiustare, no, estremizzo la cosa e quindi ho un impatto più forte. Una persona che, una donna che è, ad esempio, che ne so, ha le cosce grosse, certo, magari cerca di nasconderle, cerca di fare questo, cioè, intanto, vabbè, può cercare di diminuire, diciamo, però si può anche, diciamo, mettere una minigonna dove mette in mostra queste cosce grosse. E uno dice, beh, ma ci fa una figuraccia. Ci fa una figuraccia non è vero, perché ci sono quelli che invece si agganciano proprio su quello. Hanno una, diciamo, è un'esibizione che manifesta il fatto che non teme di esibire quello che ha, diciamo. E siccome ci sono gli stimatori di tutto, veramente ci sono gli stimatori di tutto, non dobbiamo nascondere i nostri difetti, ad esempio. Se una persona, che ne so, ha non soltanto difetti fisici o cose di questo genere, possono essere evidenziate. Cioè, se una donna, ad esempio, è molto alta, per fare un esempio, è molto alta, mettiamo un'ottanta, per una donna un'ottanta è alto rispetto alla popolazione moschera. Non deve mettersi le ballerine, no, deve mettersi i tacchi 15, diventare 1,95, per dire, no? Cioè, questo dà un forte impatto sulla personalità. E quindi, ciò che puoi reputare un difetto, in realtà, alla fine diventa un pregio, diventa qualcosa che colpisce, diventa come un qualcosa che ti rende unico o unico. E la seduzione è proprio quello, è l'unicità, essere fuori dalla massa. Quindi questo trasforma veramente quelli che tu reputi difetti in armi di seduzione. E puoi puntare su quello. Bene, per questo video è tutto. Seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Taramasco. Iscriviti a questo canale e al mio nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti!